Ciao a tutti amici di VRI, qui è il vostro felice con la rubrica Happy Gamer e oggi siamo qui per un nuovo episodio di Killer is Dead. Siamo arrivati all'episodio 7, intitolato La tigre che svanì nelle tenebre, quindi bando alle ciance e iniziamo le danze. Vediamo un po' che cosa ci attende in questo nuovo episodio. Mmm, ambiente giappo. Tizzo arrabbiato. Più che gli occhi amandola, sembra un'amantide religiosa. Ok, non è più una ma... Ok, è una tigre. Udyr! Va bene, lo so, in ogni episodio trovo qualcosa che assomiglia a League of Legends, ma ormai ci avrete fatto l'abitudine, ragazzi. Cruento. So, you will not kill me, then. Micio, micio! Udyr. È Udyr. Enigmatica come intro, come tutti, tutte le intro di questo gioco. C'era Fade nel titolo, eh. Egregious Your Brian. Sempre così iniziano, anche tutte le cutscene iniziali. Ah, Brian è lui. Ok, ho scoperto come si chiama. You called? Ah, I am so full! Frase molto equivoca. You've got a job. And our client? Already gone. Then I assume you've already gotten their personal information, as well as where to send the bill? So what's the job? A tiger appeared in Kyoto. Tiger? Is it wires? Probably. Come che cos'è? Li hai combattuti fino adesso? So pure io. Beh, te l'ha detto pure Jax di Mortal Kombat qua. Wait a minute. You're saying they had names too? Ma questa inquadratura ha le protuberanze della signorina. Ah, proprio obiettivi piccoli. Sì, cosa sarà mai far fuori là l'organizzazione mafiosa... ...una delle più importanti in Oriente? Cosa sarà mai? Are you sure? That's the job. Entend. His execution will be swift. Sti sguardi a vuoto. Ok. Ok, musica l'angio, quindi vuol dire che sta per iniziare. Quindi cosa dobbiamo affettare? Quelli della Yakuza adesso. Ok. Petalo di Sakura 3. Sì, curati nel frattempo. Non è un cane, anche se l'intelligenza è lì. Ah, beh, allora. Allora. Cambia tutto. Ormai sei diventato prevedibile come una casalinga annoiata. Perché le casalinghe annoiate sono proprio... Vabbè. Carina sta ambientazione. What? Wait. What was that? Bella domanda. C'è gente che mi svolazza intorno. It seems somebody is watching us. Don't you say? Sospettissimo sto coso. E infatti c'era dentro Yoshimitsu qua. Ma non è il video di Naruto ancora, eh. So che il sior Brusco attende il video di Naruto con impazienza. Ma ancora dovrà spesso attendere un po'. Oh, oh, oh. Sì, anche io sono agile. Guarda come sono agile io. Affetto. Non ce n'era ancora uno. Non erano tre. Vabbè, mi accontento. Forse mi avevo visto i maligni. Cerchiamo se c'è qualche... Ah, eccolo qua, infatti. Controllavo se c'era qualche maggiorata nel... Negli scatoloni, nei barili. Una pergamena. Naruto, che è qua. Benvenuto drago, vediamo se sei bravo come un tempo. Ho nascosto cinque ninja con delle pergamene nella tenuta. Riportamele. Questa sono il tuo cane. Scusa, ho buxato troppo forte. Ok. Quindi dovrei sentir vibrare qualcosa. Aspetta, così suona malissimo. Tanto io spacco tutto a prescindere. Che ci sia dentro qualcosa o no. Madonna quant'è scuro sto gioco, ragazzi. Penso che YouTube diminuisce anche la... Già la luminosità di suo. Quindi scusate se a certi tratti non vedrete una mazza, ma... Non dipende da me. Ok, di qua non si può andare. Ah, ok. Qua c'è un sentiero. Cos'è questo? L'ultimo samurai? Bel film, guardatelo con Tom Cruise. L'avevo azzeccato. Sì, sì, guarda che master che è. Non mi ha neanche sfiorato. E' proprio un pro sto samurai. Probabilmente qua... Eccolo lì. Faccio prima a provare a parare qualcosa. Ecco, esattamente così. Devi morire. Ok. Come lo vado a prendere qualcosa qua sotto? Ok. Scusate, non ti imbellinare, please. Vabbè, troveremo un modo, presumo. Almeno risco a... Ho riuscito a pararli. Questa è facendo... Facendo un giro di qua. Allora, una cosa alla volta. Qua mi segna qualcosa nelle vicinanze anche da ste parti. Andiamo un po'... Ok, non ce n'è fortunatamente un altro sotto. Qua, qua. C'è sicuramente qualcosa qua. Posso sparargli? Ah, ok, così. Allora è easy, anche l'altro. Eeeh. Telecamera che rema contro di me. Ehi, 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 ehi. Devi stare calmo. Ok, non posso... Ok, non posso... Però magari questi sì. Ok, questi sì, perfetto. Ok. Ok, pensiamo a questo adesso. No, no, no. Però se... Se lo doggio con sta skill... No. Dai. Ma sei resistente, eh? Ma se muori non mi offendo, eh. Tosto, eh. Ok, la per... La per... La prima pergamena c'è. Vedere da ste parti. Ce n'è un altro che... Mi vuole inseguire, ma io sinceramente lo mollo lì. Dietro l'ho mai visto! Non è vero, così, a random. Tosti, sti nemici, eh. No. Ma che non mi voglio far ammazzare da... Beh, bravo, eh. Vacci proprio sopra. Non ci credo. Mamma mia, che nabbo. Dai. Per piacere, che poi alla fine ci sarà anche il boss. Se è immesso dietro gli alberi. Vediamo se qua c'è qualcosa. No. E qua nemmeno. Non sento vibrare il gamepad per ora. Andiamo a prendere quello là di prima che non avevo capito esattamente come funzionasse. Quello che era qua sotto il ponte. Questo. Dai. Quando funziona così, almeno... Ella. Dai, almeno una mano dal cielo. Sì, vabbè. C'è un taglio, però, eh. O li prendo tutti o non ne prendo nessuno. Ma date! Adesso sembro il master delle... No, perché l'ho messo in pausa. Non si vede niente. Sto è troppo resistente. Ce la puoi fare, eh. Ma non imbellinarti nei pali. Su, 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 su. Oh, non partiva neanche... Ok. Una sicuramente è da questa parte. Ne sono certe, cioè, ovvio. Un attimo controllo il timer. Presumo che questo video, se devo trovarle tutte e cinque, ragazzi, dovrò dividerlo in due. Se no, diventa troppo lungo. Alcuni di voi mi hanno fatto notare via mail che certi video sono diventati un po' lunghi. Non è colpa mia, ovviamente. Cioè, nel senso che... Devo seguire l'andamento del gioco. Questa zona che senso ha? Non c'è nulla da questa parte. Ok, non può non esserci nulla qua. Affiniamo un attimo la vista. Soprattutto qua. A parte che lì c'è... Prendendo il fatto che sia senza sangue... Cosa c'è... Ah! Vedete che qualcosa c'era. E infatti c'era un bonus. C'era un bonus. Ok. Ma falder. GG. Oh, grazie. Mi ha anche rifullato il sangue. Altre cose qua non ce n'è. Andiamo a dare un'occhiatina... Di... Ah no, di qua non c'è... Non possiamo accedere alla... Alla peda... Al ponte che c'è di qui. Qua siamo sicuri che non ci sia nascosto nulla? Perché cosa segreta che non notiamo? No, ok. Allora a questo punto io opterei per tornare indietro. Tanto odio le missioni di ricerca, così. Però possiamo andare di qua. Posto che non avevo notato all'andata. Sicuramente di qui troveremo qualcosa. Ok, sta vibrando. Sta vibrando. Qua dentro può essere. E infatti... Questo mi evoca gli occhi malvagi però. Yeah. No Può far fuori sto coso Assolutamente Però c'è anche l'altro che mi Dai 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 Troppe cose da dover tenere Ok Direi che sti cosi qua sono resistenti È un eufemismo Spostati Che stress No Ha fatto il kamikaze Guardate anche il nemico pronto a morire Su 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 No Ha recuperato anche Anche la vita ma non ci credo Non ci credo Che cosa frustrante Ma son troppo pisti nemici Gli sfondo la difesa Ma lo stesso non Tiene tutta la vita da capo Oh Mamma mia però Ok ragazzi Andiamo a vedere un po' Io direi ragazzi Dato che mancano altre Mancano altre due pergamene Poi probabilmente ci sarà il boss E quindi più il dialogo e tutto Credo che le cose Tireranno per le lunghe Io stopperei Questo video qua E facciamo una prima e seconda parte Che cercherò comunque di caricare vicine Tipo un giorno una al giorno l'altra Così potete riprendere direttamente Diciamo da qui ecco Perché ho paura che sennò sconfiniamo nei 35-36 minuti E mi avete chiesto di fare video un po' più corti A parte per Naruto Quindi che ne dite Ci fermiamo qui Vi do appuntamento alla seconda parte Di questa missione Mi raccomando Quindi che dire Iscrivetevi al canale Guardate subito domani Quando uscirà appunto la seconda parte Qui dal vostro felice La rubrica Happy Gamer è tutto E bye bye